Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca. E negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. E ti vergogna, ma adesso continui così, quanti morti e poi finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia del mediatore.